Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In una stanza c'è sempre un camminetto. È taballacchino. Cos'è questa? È taballacchino perché questo è l'appartamento della regina, composto da tre stanze. Non mi racconti niente? Prendilo, è bene il netto. Pensa un po' nella nostra camera, ci starebbe un bell'appartamento del bambacchino. Lucevo fuori noi. Salotto rotondo, detto della musica. Vedi, perché infatti qua ci si vedeva un salottino. Qui è il salottino? Sì. Salotto rotondo. Vedi che lo vado. Bello, eh? Ti suono l'alba. Sì, sì.